salva tutti dopo aver analizzato nel primo video il processo fisico che descrive la formazione della condensa quindi la trasformazione del vapore acqua o dell'umidità presente all'interno di casa tua in condensa superficiale che è la prima responsabile della formazione della muffa interna infatti le muffe tendono a formarsi in ambienti umidi in ambienti ricchi d'acqua andiamo ad analizzare le due tipologie di muffe che si possono formare in casa e a vedere concretamente a livello fisico come puoi sconfiggerle quindi non perdiamo altro tempo metti mi piace e cominciamo bentornati e benvenuti io sono davide e su questo canale trovi tutte le informazioni relative al mondo del risparmio energetico dal fotovoltaico alle pompe di calore dalle batterie di accumulo alle caldaie biomassa e in questa nuova playlist approfondirò anche tutti i vari aspetti relativi al mondo dell'isolamento e della co-inventazione termica quindi se non vuoi perderti tutte queste informazioni per progettare in maniera smart la tua riqualificazione ed evitare errori banali che ti possono costare caro in futuro ti invito ad iscriverti al canale ed entrare a far parte del gruppo facebook il link lo trovi in descrizione dove quotidianamente potrai trovare consigli e suggerimenti su tutti i prodotti del mondo green e confrontarti con altre persone che come te hanno intenzione di riqualificare la propria abitazione è doveroso fare un brevissimo riassunto su quello che ci siamo detti nel video precedente in sintesi abbiamo detto che maggiore la temperatura ambiente maggiore la percentuale di umidità relativa ossia la quantità di vapore acqueo che può rimanere sotto forma di vapore all'interno dell'ambiente se io diminuisco la temperatura diminuisce anche la quantità d'acqua che può stare in forma gassosa e quindi tende a condensare quindi abbassando la temperatura dell'aria io vado incontro a fenomeni di condensa e la condensa come detto è la principale causa della formazione delle muffe parliamo quindi delle muffe abbiamo due grosse tipologie di muffe che vanno ad indicare due fenomeni diversi quindi a seconda della muffa a seconda del sintomo io posso capire qual è la causa qual è il problema una delle muffe più comuni sicuramente quella lì nera quella scura che si forma negli angoli dietro i mobili eccetera questa tipologia di muffa è una muffa superficiale che si forma in ambienti umidi quindi si forma grazie alla condensa presente sul muro sulla superficie del muro e quindi una muffa che dipende che è stata causata dall'umidità interna dell'abitazione la seconda tipologia di muffa invece la muffa più bianca più chiara che spesso però non è neanche muffa ma è quel fenomeno di scrostamento quando l'intonaco la vernice si distacca dal muro questa seconda tipologia di muffa anche se non sempre una muffa semplicemente è un distaccamento dell'intonaco della vernice è invece causato dall'umidità presente all'interno del muro all'interno della parete quindi umidità che arriva dall'esterno e dall'esterno può esserci due tipologie di umidità o un'infiltrazione dal tetto oppure umidità di risalita dalle fondamenta oppure per i casi più disperati se quello del piano di sopra ha una perdita o hai la grondaia che ti pisce sul muro e quindi il muro assorbe l'acqua e poi durante la fase di asciugatura interna il vapore acquio allontanandosi dal muro porta con sé l'intonaco partiamo quindi dal caso più semplice che è il secondo caso cioè se ho delle infiltrazioni sul tetto semplicemente devo andare a sistemare il tetto non c'è niente che mi risolva questo problema se invece ho dei fenomeni di muffa che mi generano del distaccamento da parte dell'intonaco della vernice causate dall'umidità di risalita perché sono al primo piano per esempio una strategia per risolvere questo problema qua può essere quella lì di installare un intonaco traspirante che è stato realizzato proprio per questo motivo qua l'umidità all'interno del muro allontanandosi dallo stesso attraversa questo intonaco e non lo rovina non lo distacca questa tipologia di intonaco traspirante è data però negli ambienti vissuti in cantina non ha senso fare un discorso del genere perché perché l'umidità che esce dal muro il vapore acqueo che attraversa l'intonaco ed esce dal muro rimane poi all'interno dell'ambiente e nell'ambiente mi può provocare problemi di muffa del primo tipo della muffa nera in casa quindi posso andare a risolvere il problema anche della muffa nera in cantina non posso andare a deumidificare la cantina perché potrebbe essere molto dispendioso a livello energetico e quindi mettere questa tipologia di intonaci traspiranti in cantina non mi risolve il problema perché l'umidità attraversa il muro rimane nell'ambiente e si riattacca all'intonaco e me lo rovina lo stesso e se non ho più la traspirazione alla fine non ho risolto il problema torniamo quindi a parlare del primo caso ossia della formazione di questa muffa scura causata da fenomeni di condensa superficiale come abbiamo detto prima la condensa superficiale che poi è il terreno fertile su cui si forma la muffa si forma quando l'aria ambiente a una certa temperatura con una certa quantità di vapore acqueo viene raffreddata sotto il punto di rugiada il vapore acqueo domestico andrà a condensare sempre nel punto più freddo dell'abitazione il punto più freddo qual è è il ponte termico della stanza a nord quindi la parete nord tendenzialmente più fredda sulla parete nord o il ponte termico che lo spigolo poi vi spiegherò successivamente che cos'è un ponte termico però tutti parlano di ponte termici senza neanche sapere esattamente che cos'è però lo spigolo è un punto particolare definito per appunto ponte termico dove la temperatura è più bassa perché ha una dispersione esterna maggiore quello è il punto più freddo ed è lì che si forma la condensa a volte la condensa che quindi poi genera la muffa si forma dietro un mobile perché questo mobile non traspira e se tu lo vai a toccare con le mani è freddo sono stato io stesso l'altro ieri a casa di un cliente che aveva un pensile in cucina e dietro il pensile infilavo la mano era pieno di umidità se io mettevo la mano sul muro libero aveva una determinata temperatura se tu infilavi la mano nello stesso muro ma dietro il pensile sentivi che era molto più freddo per quel motivo lì perché ovviamente l'aria dell'ambiente non arrivava a riscaldare quella parete allora l'umidità faceva condensa e la condensa generava la muffa ma quindi come posso combattere questo fenomeno per evitare la formazione delle muffe superficiali o quindi due strade o riduco l'umidità la quantità di vapore acque all'interno dell'abitazione e vediamo come si può fare oppure aumento la temperatura delle superfici se tutte le mie superfici sono a una temperatura più alta rispetto alla temperatura di rugiada il vapore acque non condenserà perché perché il muro non sarà abbastanza freddo per generare condensa e come faccio ad aumentare la temperatura delle superfici semplice o scaldo molto di più però così facendo nascondo il problema della muffa dell'umidità l'umidità rimane comunque in casa non è che se ne va rimane in casa ma non non trovo nessun appiglio però comunque c'è oppure isolo l'ambiente anche qua l'umidità rimane in casa non sparisce ma l'isolamento evita che la temperatura superficiale delle pareti sia troppo fredde quindi l'umidità non va ad attaccarsi non va a fare condensa e quindi non si genera la muffa questa è la prima strada non risolvo completamente il problema perché perché il vapore acque l'umidità all'interno dell'abitazione rimane semplicemente non riesce ad appiccicarsi al muro perché la temperatura è più alta o perché ho riscaldato e quindi ho dovuto investire dei soldi perché scaldare casa costa oppure ho isolato e questo vediamo poi all'interno delle playlist come si può isolare casa la seconda strategia è quella di ridurre l'umidità all'interno dell'ambiente se riduco la quantità di vapore acque presente all'interno dell'ambiente si riduce anche la temperatura di rugiada quindi se il mio punto più freddo è a 10 gradi 10 gradi è una temperatura di rugiada che mi fa condensa se ho tanto vapore acqueo all'interno dell'abitazione ma se ho poco vapore acqueo quel poco non andrà a condensare lì perché perché per condensare ha bisogno di una temperatura più bassa basta fare riferimento al grafico e capite tutto se io vado a ridurre la quantità la mia temperatura di rugiada è molto più bassa come posso ridurre l'umidità all'interno dell'abitazione anche qua ho due soluzioni la prima soluzione è la deumidificazione che può essere chimica sconsigliata perché è dispendiosa nel tempo e scomoda quindi attraverso quelle classiche scatolette con i sali oppure fisica attraverso un deumidificatore il diumidificatore è un piccolo frigorifero che cosa fa poi il punto più freddo quindi avendo delle lamelle molto fredde fa sì che la condensa si concentri in un punto e io posso andare a gestire perché ho la mia vaschetta dove tolgo tutta l'acqua che era presente all'interno dell'ambiente come detto nell'ambiente c'è c'è e ci sarà sempre vapore acque perché parlando emetto vapore acque cucinando emetto vapore acque eccetera quindi con la deumidificazione attraverso un diumidificatore posso anche vedere quanta acqua sto togliendo dall'ambiente la seconda strategia è quella di ventilare l'abitazione perché ventilare l'ambiente riduce l'umidità semplice perché io introduco dall'esterno aria più fredda l'aria più fredda ha una quantità di vapore acqueo più bassa perché abbiamo detto più si riduce la temperatura minore la quantità di vapore acqueo presente all'interno dell'aria e quindi miscelando un prodotto poco carico d'acqua con l'aria ambiente che è tanto carica d'acqua la media mi riduce la l'umidità la quantità di vapore acqueo esempio pratico un bicchiere del mare acqua salata se io ci metto poco per volta acqua dolce e faccio andare via acqua salata alla fine la quantità di sale nel bicchiere si riduce perché perché sto facendo un ricambio d'acqua lo so a volte questi esempi sono un po assurdi però spero che siano utili per trasmettere il messaggio il ricambio d'aria va però fatto in maniera logica e razionale perché se no è controproducente io non posso alzarmi la mattina spalanco le finestre lascio le finestre aperte un'ora perché perché io non sto ricambiando d'aria io sto raffreddando velocemente tutta la stanza e se raffreddo velocemente tutta la stanza il vapore acqueo che cosa fa condensa per questo ricambio d'aria deve essere bilanciato equilibrato per esempio i nuovi serramenti quelli moderni hanno la posizione di trasfigurazione cioè dove non ho una chiusura ermetica ma dove faccio passare un filo d'aria cambiare l'aria però attraverso le superfici vetrate quindi attraverso le finestre è controproducente perché perché faccio entrare aria fredda io spendo per il riscaldamento quindi mi spendo soldi per aumentare la temperatura e io abbasso la temperatura perché butto dentro la via fredda così facendo sto sprecando energia oggettivamente per questo la seconda alternativa per il ricambi d'aria è la ventilazione meccanica che può essere sia centralizzata oppure puntuale su una casa già fatta finita spesso si utilizza la ventilazione meccanica puntuale cioè stanza per stanza vado a sistemare uno di questi apparecchi come funziona un sistema di ventilazione meccanica puntuale spiegato in brevissimo perché poi dedicherò un video apposito semplicemente è un buco con l'esterno con una ventola che mi butta fuori l'aria interna e prende l'aria esterna e che a volte queste ventoline qua ci sono anche in cucina o in finestra cioè serve per ricambiare l'aria ma a differenza dei sistemi più tradizionali la ventilazione meccanica controllata è dotata di un filtro ceramicato utile per recuperare il calore quindi ho l'aria ambiente a 20 gradi che è una quantità di vapore acqua definita la butto fuori mentre va fuori attraversa questo filtro ceramicato che si riscalda quindi l'aria a 20 gradi viene buttata fuori a 4 5 6 gradi l'aria esterna che è una quantità di vapore acqua più bassa entrando in casa attraversa questo filtro ceramicato e viene riscaldata quindi l'aria esterna che forse è a 0 gradi non entra in casa a 0 gradi raffreddando l'ambiente ma entra in casa a 15 16 17 gradi a seconda della qualità del prodotto e dell'efficienza e quindi ricambia l'aria perché arriva molto secca perché aumenta la temperatura ma la quantità di vapore acqua rimane la stessa quindi l'umidità relativa è molto bassa e miscelandosi abbassa complessivamente la quantità di vapore acqua presente nella stanza questo procedimento qua evita di disperdere energia termica all'esterno di sprecare calore o di raffreddare troppo una stanza quindi ricapitolando abbiamo due tipologie di muffe quella che mi screpo dal muro e umidità di infiltrazione posso risolvere con un intonaco o sistemando il problema infiltrazione simile la muffa nera è relativa alla condensa superficiale interna aumento la temperatura della superficie quindi o con l'isolamento o riscaldando di più riduco la quantità di vapore acqua presente all'interno dell'abitazione quindi o deumidificando fisicamente chimicamente abbiamo detto che non ha senso oppure facendo un ricambio d'aria un ricambio d'aria deve essere però fatto senza sprecare quindi attraverso un sistema di ventilazione meccanica controllata questo è tutto scusate il pippone la lunghezza del video ma spero di aver chiarito tutto quello che riguarda il mondo dell'umidità così potrò concentrarmi nella realizzazione di video relativi solo all'isolamento come si isola come non si isola quindi se stai pensando di ristrutturare o riqualificare casa ti consiglio di iscriverti al canale e di continuare a informarti così da non perderti tutti i video che in futuro pubblicherò sul mondo dell'isolamento termico Grazie 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 Grazie